Proseguono i cantieri che vedono l'impegno dei 97 lavoratori ex reddito minimo di inserimento. In attesa dei trasferimenti della regione siciliana, l'Aggiunta a Ruvolo ha infatti anticipato 75.000 euro per il mese di febbraio e altre tante somme saranno assegnate per il mese di marzo. Nel frattempo l'amministrazione ha stilato la gradatoria per i cantieri di servizio che prenderanno il via già da marzo. Sossidi a favore di 120 lavoratori che a turni trimestrali eseguiranno lavori di manutenzione in città. Mentre ad aprile partiranno 5.000 i cantieri. Una risposta per attenuare la piaga della disoccupazione che investe la città. Abbiamo 4.000 disoccupati, ma in realtà questa è la fotografia dei disoccupati dichiarati nelle liste di disoccupazione. Ma probabilmente da stime che sono state fatte i disoccupati oscillano dai 6.000 agli 8.000 cittadini nisseni. Di fronte a un'ecatombe come questa è evidente che l'amministrazione comunale non può trasformarsi in una sorta di fiat che dà lavoro a 6.000-8.000 persone. Noi abbiamo pochi mezzi, fra l'altro all'interno di una regione che ormai è in dissesto. Noi stiamo anticipando per esempio le somme necessarie per garantire ai lavoratori dell'ex reddito minimo di inserimento di lavorare anche a marzo e nonostante ancora la regione tardi a fare i trasferimenti delle somme necessarie, noi anticiperemo le somme, per gli RMI ci sarà probabilmente un piccolo intervallo dovuto al fatto che la nuova I6 ci costringe a rivalutare la posizione di ognuno di questi lavoratori che tuttavia lavoreranno anche a marzo e nell'immediato nel mese di marzo partiranno i mini cantieri che invece vedranno l'apertura di 5 piccoli cantieri che faranno una sorta di restyling nei quartieri, faranno una pista ciclabile a San Marco e rifaranno la segnaletica orizzontale stradale della nostra città.